Ciao a tutti e bentornati su Basically Lea, il mio personalissimo podcast dove parlo di tutte le cose che mi passano per la testa e di tutte le cose che mi piacciono. Oggi abbiamo una puntata veramente intensa, una puntata speciale che non vedevo l'ora di registrare sinceramente e che soprattutto mi è stata richiestissima e non me l'aspettavo, quindi in realtà mi fa mega piacere. E oggi parleremo di How I Met Your Mother, nonché la mia serie preferita di tutti i tempi e che un sacco di voi hanno guardato sotto mio consiglio, l'hanno apprezzata e ciò non può fare altro che farmi piacere, un grandissimo piacere aggiungerei. Bene, bentornati sul podcast, io mi chiamo Lea perché di voi non mi conoscesse e questo podcast è fruibile su YouTube con il video oppure su Spotify e su Apple Podcast. Sono molto curiosa di sapere da dove lo state guardando barra ascoltando, se mi state seguendo da YouTube sappiate che innanzitutto fuori non c'è luce, il sole sta tramontando e io volevo provare questa nuova postazione che è in realtà la mia scrivania perché mi sembra tipo più cozy e intima del mio salotto e vediamo come va. A me piace molto per il momento ma insomma vedremo. Come state ragazzi? Spero tutto bene, io ok, terza settimana di zona rossa, cioè in realtà adesso siamo a zona arancione però insomma io sono chiusa in casa da tre settimane, beh non è che cambia molto diciamo si può uscire dalle 5 alle 22 se non sbaglio, tutto il resto rimane uguale però comunque io sono qua a casa. L'unica cosa che ho fatto ieri che era domenica sono andata al parco con Giulio e la mia famiglia perché era una bella domenica, c'era il sole ed era figo. Sono un idiota raga, vi giuro sono proprio una cretina, mi raccomando non fate il mio errore, mi sono spiaccicata un brufolo sulla fronte che non esisteva, cioè avete presente? Non so se capita solo a me che quando sono nervosa mi schiaccio le cose, ecco ero nervosissima e ho pensato bene di martoriarmi la fronte. Non avevo un brufolo, ora ho una macchia rossa gigante, non fatelo perché non si fa, è una cazzata, non fatelo, grazie. Va bene, niente, basta, bando alle ciance, spero che appunto voi siate bene, io sto ok, sto diventando semi pazza ma neanche troppo, tanto comunque lo sono già e inauguriamo questa bellissima puntata a tema How I Met Your Mother. Premetto che sarà lunghissima raga perché io vi giuro che ho mille robe da dire e ho pensato di fare una parte iniziale senza spoiler dove insomma possiamo parlare di questa serie senza magari rovinarla chi la vorrebbe vedere e una parte con spoiler dove risponderò anche alle vostre domande che annuncerò, quindi insomma se non avete visto How I Met Your Mother ancora e non volete sapere gli spoiler sappiate che a un certo punto della puntata dirò che inizierò a parlare di cose che succedono e potete spegnere. Bene raga, sono mega agitata, ammetto che è la seconda volta che registro questo episodio perché il primo cioè mi piaceva solamente che mi sembravo troppo confusa quindi ho pensato che magari girando una seconda volta il discorso fila meglio e bene, iniziamo, mega agitata, ora ho una scrollata alle spalle e ci sono. Allora, introduciamo brevemente questa serie, How I Met Your Mother è andata in onda dal 2005 al 2014 e sostanzialmente racconta le vicissitudini che hanno portato il protagonista che è Ted Mosby a incontrare sua moglie nonché madre dei suoi figli, ergo il titolo How I Met Your Mother. Ovviamente il protagonista è Ted Mosby ma è anche la voce narrante della vicenda perché sostanzialmente qual è la situazione? È lui da adulto che si siede davanti ai suoi figli e racconta loro come ha incontrato loro madre. Ci mette una vita e mezzo a raccontare questa storia perché non è che decide di raccontarla tipo sì ragazzi allora quel giorno lì ho incontrato vostra madre in quel posto e ci siamo innamorati e ci siamo sposati e abbiamo avuto voi. No 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 no. Ted decide di raccontare questa storia proprio dalle origini, anzi dirò di più, dalle origini della formazione secondo me del suo gruppo di amici perché sì lui è il protagonista ma sono altrettanto protagonisti i suoi amici che sono Marshall Erikson, Lily Aldrin, Barney Stinson e Robin Sherbatsky. E lui decide appunto di iniziare a raccontare questa lunghissima storia dal giorno in cui questo gruppo un po' si consolida nonché il giorno in cui lui incontra Robin Sherbatsky e Robin diventa amica di tutti. E così si siede davanti ai suoi figli e racconta loro tutta la sua gioventù che poi l'ha portato a incontrare la loro mamma. Infatti la storia inizia appunto nel 2005 perché nella prima stagione si vedrà anche il capodanno del 2006. Infatti la storia inizia che loro sono ancora tutti molto giovani, Marshall addirittura non ha neanche finito gli studi di legge e ovviamente poi crescono in nove lunghissime stagioni secondo me molto belle e molto intense. Quindi fatto questo quadro generale una delle domande che mi viene più posta è come hai iniziato a guardarla? Me lo ricorderò per sempre che un mio amico delle medie, io in prima media e lui in terza secondo me, un giorno l'ha tipo nominata in una conversazione e ho detto ah che bella How I Met Your Mother ed è un nome che mi era rimasto tipo in mente. Non l'ho mai guardata fino a quando qualche anno dopo non ho per caso trovato un episodio su Fox, mi sono ricordata che il mio amico l'aveva nominata e quindi ho guardato questo episodio a caso e io lì ero tipo in terza media una roba del genere. Però poi avevo abbandonato insomma, avevo guardato qualche episodio così a caso, sporadico, in televisione però non avevo mai seguito la storia e non mi aveva neanche mai troppo incuriosito. A un certo punto in seconda liceo, se non erro, apro il catalogo di Netflix in cerca di qualcosa da vedere e vedo che c'era How I Met Your Mother la serie completa e mi dico ah non l'ho mai vista dall'inizio alla fine, non ho mai visto gli episodi di fila perché non iniziarla e guardarla in senso cronologico, in senso corretto, nella successione corretta di episodi e ho iniziato a guardarla e mi sono follemente innamorata. Da quella volta lì non ho mai più smesso di guardare How I Met Your Mother. Perché dico così? Perché io guardo sempre How I Met Your Mother, non c'è mai un momento della mia vita da allora in cui io non stia guardando questa serie. L'ho vista seguendola molto bene tipo cinque volte, nel senso che guardavo con attenzione ogni episodio. Le altre tipo sei o sette volte che l'ho vista invece l'ho sempre tenuta come tipo sottofondo di compagnia magari mentre cucino piuttosto che faccio la lavastoviglie, piuttosto che piego i vestiti e la uso addirittura per andare a dormire perché conoscendola perfettamente a memoria non ho bisogno di prestare attenzione a quello che succede però io sono una di quelle persone che tipo per riuscire ad addormentarsi ha bisogno di ascoltare qualcosa e spesso e volentieri ascolto How I Met Your Mother. Quindi per questo dico che la guardo sempre, perché non c'è mai un momento in cui io non la stia guardando. Cioè ok, non è che la guardo tutti i giorni, però dico nei periodi della vita la guardo sempre. L'ultima volta che l'ho guardata bene bene seguendola è stata a marzo che la mia migliore amica Franca non l'aveva mai vista e io le ho detto senti se tu vuoi continuare ad essere mia amica non puoi non vedere How I Met Your Mother perché penso che sia una roba troppo importante da guardare per conoscermi. Cioè non so come dire, io ho imparato tantissimo da How I Met Your Mother e tipo mi rivedo un sacco e sono convinta anche di aver preso tante cose quindi se sei la mia migliore amica per conoscermi davvero devi aver guardato questa serie perché se no non mi conosci davvero, non puoi dirlo. Quindi l'abbiamo guardata insieme su Netflix Party e ovviamente l'ha amata ma ci mancava solo cioè se non le fosse piaciuta non le avrei mai più parlato nella mia vita. LOL Vabbè, a parte questo, a me piace moltissimo questa serie perché trovo che si riesca a empatizzare benissimo con tutti i personaggi. Trovo che come storia e come trama sia abbastanza vicino alla vita reale ovviamente è romanzata perché deve essere una serie tv però tante delle cose che succedono sono delle cose in cui ci si può tranquillamente rivedere e da cui si può anche trarre un insegnamento. Perché dico questo? Perché How I Met Your Mother tratta un'infinità di temi che vediamo nella nostra quotidianità. Banalmente il tema principale e il filo conduttore di tutta la storia è la ricerca dell'amore, chiaramente anche come suggerisce il titolo. Però parla di amore in tantissime sfaccettature diverse. Parla di tutti i tentativi che si fanno per riuscire a trovarla parla delle rotture, delle separazioni in amore, delle delusioni, di situazioni complicate. E questa è solo la parentesi amore perché poi tratta tantissimi altri temi come per esempio la malinconia, gli addi, l'amicizia e secondo me lo fa in un modo molto bello perché si vedono tanti tipi di amicizia diversi anche solo tra gli stessi protagonisti che hanno dei rapporti molto molto diversi tra di loro. Gli addi, non mi ricordo se l'ho già detto, insomma, comunque il lavoro anche. È una serie che parla di tante cose quotidiane in cui ci possiamo tranquillamente rispecchiare. E lo fa secondo me in un modo molto bello perché questa serie è una serie comedi, quindi una serie che fa ridere, ma non manca mai di una sorta di morale alla fine di ogni episodio. È una serie comunque leggera da guardare perché ogni episodio dura 20 minuti, quindi non è tanto e non è troppo impegnativo. E chiaramente in questi 20 minuti ridi e sei divertito dalle cose che vedi oltre che a rispecchiarti. Ma quello che voglio dire è che alla fine di ogni episodio non manca mai un insegnamento, un consiglio. Ricordiamoci sempre che la voce narrante è Ted, ma soprattutto che Ted sta raccontando questa storia ai suoi figli, quindi vuole dar loro un consiglio ripercorrendo tutta la sua gioventù. Magari riguardando i suoi errori dopo tanti anni, poteva comportarsi in un certo modo piuttosto che in un altro. Da quella situazione ha imparato quella cosa lì. Posso farvi un esempio semplice di questa cosa che sto dicendo. C'è un episodio in cui Ted decide di prendere una decisione dopo un certo orario della notte e si ricorda di quando sua madre gli disse che dopo le due del mattino non succede niente di buono. Ed è un insegnamento che lui vuole tramandare ai suoi figli, infatti a fine episodio dirà Questa è facile da ricordare perché è una frase ad effetto, ma vi assicuro che ce ne sono tantissimi di insegnamenti che Ted dà a seguito di eventi che succedono nella serie. Ora non vorrei essere troppo specifica per non spoilerare nulla, però insomma è così. E questo secondo me è un bellissimo aspetto di How I Met Your Mother, perché è una serie che sì, ci intrattiene e ci fa ridere, ma allo stesso tempo ci fa riflettere su degli argomenti e su dei temi e su degli eventi che possono tranquillamente toccare chiunque di noi. Questo è anche il motivo per cui io ridendo e scherzando dico che How I Met Your Mother è la mia Bibbia, nel senso che io ho imparato davvero davvero tanto guardando questa serie, mi sono rivista in tante cose. Faccio un esempio banale ma magari non scontato, io ho iniziato appunto a guardarla al liceo e mi chiedevo sempre come sarebbe stata la mia dating life da adulta, cioè mi sono sempre chiesta tipo boh oddio, io al liceo ero fidanzatissima quindi non riuscivo ad immaginare un'altra cosa e banalmente How I Met Your Mother mi ha fatto capire che le persone fanno dei tentativi, che non è che siamo tutti compatibili, che certe cose possono andare male, non lo so magari sembra scontato ma a me ha aperto gli occhi quando avevo 16 anni questa cosa. Quindi sì ecco, tratta di molti temi in modo profondo ma allo stesso tempo leggero, oltre alla ricerca dell'amore parla tantissimo anche della ricerca di se stessi, della propria strada, delle cose su cui si vuole investire del tempo e delle energie come per esempio la carriera. Ed è proprio vero che in How I Met Your Mother ci si riconosce nelle piccole cose, proprio perché i protagonisti spesso mostrano anche le loro fragilità, le loro difficoltà e le loro debolezze, il che appunto rende ancora più facile riuscire ad empatizzare con loro. Per me Marshall, Ted, Robin, Barney e Lily sono tipo dei miei amici raga, io non sto scherzando, cioè io li percepisco come persone che fanno mega parte della mia vita, capisco che io sono ad un livello di nerdaggine altissimo in questa cosa, nel senso che, cioè io proprio sono pazza di questa serie, malata, quindi è strano, però non è così difficile che loro riescano a entrarti nel cuore e a comunque farti sentire vicino a loro. E oltre a volere un bene dell'anima a tutti i personaggi, la cosa che mi lega tantissimo a questa serie è che c'è sempre qualcosa da imparare. Qualcuno sostiene che How I Met Your Mother sia la copia brutta di Friends. Ora, io ho visto anche Friends e mi piace tantissimo Friends, però secondo me sono due cose estremamente diverse. Tiro fuori questa cosa perché se ne parla tantissimo, secondo me le persone dovrebbero capire che sono due cose diverse. Innanzitutto raccontano un decennio differente. Friends inizia nel 94 e finisce nel 2004, How I Met Your Mother inizia nel 2005 e finisce nel 2014. Parlano proprio di un periodo diverso e Friends è la classica sitcom degli anni 90. How I Met Your Mother non è così. Friends, per quanto possa avere una trama, non racconta una vicenda dall'inizio alla fine, quanto più si concentra a raccontare un gruppo di amici. Mentre How I Met Your Mother ha una trama ben precisa, che inizia in un certo modo e finisce in un certo modo. Ma soprattutto ha anche questo obiettivo, mettiamola così, di dare sempre una morale. Friends, invece, fa ridere. Sono due cose diverse. Sono due cose diverse, secondo me. E don't get me wrong, perché a me Friends piace tantissimo. Cioè, mi fa proprio scassare e lo trovo bellissimo, ma riesco a distinguere le due cose. Non lo so, non sono molto d'accordo su questo paragone che fanno. È ovvio che ci sono delle somiglianze, perché fanno entrambe parte dello stesso genere. Sono entrambe delle serie comedy, sono entrambe delle sitcom, però secondo me sono ben distinguibili. C'è una cosa che mi fa molto ridere. In un episodio, precisamente il settimo episodio della seconda stagione, How I Met Your Mother, proprio perché ha ricevuto tante critiche dal punto di vista di Friends, fa una frecciatina allo show. Inizia questo episodio con i tre amici che sono seduti in una caffetteria, quindi in a coffee place, e Ted dice So it settles it, quindi dice È deciso. E Barney risponde, quota dal mio foglietto, Hanging out at a coffee place is not nearly as much fun as hanging out in a bar. Perché appunto i protagonisti di How I Met Your Mother si ritrovano sempre in questo pub e fanno questa frecciatina dicendo che uscire in una caffetteria, cioè piazzare in una caffetteria, non è assolutamente tanto divertente quanto uscire in un pub. E comunque io sono d'accordo. Vabbè, sarò anche di parte, però non ho assolutamente alcun tipo di intenzione di sminuire Friends, anche Friends secondo me appunto è stupenda e meravigliosa, però boh, per me sono due cose estremamente diverse e le guardo per dei motivi diversi. Bene, se non avete mai visto How I Met Your Mother, spero di avervi convinto in qualche modo a guardarla e potrete tornare qua una volta che l'avrete vista perché ora inizia la parte spoiler. In questa parte risponderò a un po' delle vostre domande che mi avete mandato, raga me l'avete ricoperta di domande, ve lo giuro siete pazzi, però in realtà sono molto molto contenta e vi ricordo che tutte le domande che vanno a far parte del podcast le raccatto su Instagram, quindi seguitemi su Instagram, mi chiamo Leoncino con due i, per i prossimi episodi potrebbe essere utile. Bene, iniziamo a rispondere ai vostri quesiti che sono molto molto interessanti, mi sono piaciuti. Ovviamente sto dando per scontato che da questo momento in poi voi abbiate visto How I Met Your Mother e sappiate di che cosa stiamo parlando. Amazing! Considerazioni sul personaggio di Robin. A me lei sta molto simpatica, mi piace molto e la trovo una persona con un carattere molto forte ma allo stesso tempo con tantissime fragilità che secondo me si vergogna un po' a mostrare ma poi a un certo punto quando prende davvero confidenza con tutto il suo gruppo di amici si rende anche vulnerabile. Ci sono tante scelte di Robin che non condivido, tante, a volte credo che sia un po' troppo orgogliosa ed è quella che è, insomma, fa parte del suo carattere, però lei mi piace. La costante lotta tra amore e carriera è una cosa che trovo estremamente interessante perché per il momento non l'ho mai vissuta sulla mia pelle non mi sono mai dovuta mettere nella posizione di scegliere tra amore o carriera però capisco che per una persona come lei sia una cosa veramente difficile anche perché non dico che lei non abbia fiducia nell'amore ma dico che sia un po' diffidente quindi ci va sempre coi piedi di piombo. Non lo so, comunque è un personaggio che ammiro perché trovo che comunque si sia messa sempre in gioco in tutta la serie cioè è una che alla fine rischia ed è una cosa che ammiro di lei appunto. Quindi considerazioni? Beh, per me è una che ci sta è una che ci sta e ha due palle tante. C'è un personaggio che non sopporti? Una miriade? Allora, la prima è Victoria veramente Victoria, la odio, mi mette i nervi la odio nella prima stagione e la odio quando torna dopo che gli fa tutta quella scenetta a Ted che deve mollare Robin che non può essere amico di Robin se vuole sposare lei. Vabbè, la posso capire perché comunque lui l'ha tradita con Robin anni e anni prima però non lo so cioè lei mi dà un po' i nervi la trovo troppo nidi capito cosa voglio dire? Boh, mi sto un po' antipatica. Un'altra che odio raga ma tantissimo poi lei la odio mamma mia quanto la odio Stella quella che molla Ted dall'altare Stella veramente è una stronza cioè proprio lo usa secondo me in un modo terribile vabbè, Ted è un sottone come sempre, lo sappiamo ci mette sei anni a convincerla a uscire con lui lei finalmente ci esce ma non lo so come dire è ovvio che lei abbia mille cose irrisolte col suo ex quindi perché dovresti accettare di sposarlo se poi non lo so, veramente trovo che abbia fatto un gesto abbastanza meschino poi dai minchia lasciare una persona all'altare è veramente tremendo lascialo prima cioè per favore vabbè, a parte questo brutto gesto che ha fatto in generale mi sta proprio antipatica poi trovo che si imponga in un modo sbagliato per le cose cioè tipo quando cerca di convincere Ted di trasferirsi in New Jersey cioè io lo capisco è ovvio tu hai una figlia vuoi stare dove tua figlia va a scuola eccetera eccetera però c'è modo e modo cioè non so come dire non è che lo guardi negli occhi e gli dici no Ted we're going to live in New Jersey cioè sei calma non lo so mi sta antipatica poi chi altro odio mh beh loro due sono quelle che odio di più ora come ora non mi vengono in mente altri nomi però ci sono sicuramente altre persone che non mi vanno a genio l'insegnamento più grande che hai ricevuto dalla serie mh eh questa è dura secondo me ce ne sono tanti tanti la prima è che capita nella vita che a volte le persone non siano compatibili nonostante ci si voglia molto bene ci sta che non si è fatti l'uno per l'altro secondo me come dicevo prima tratta l'amicizia in un modo bellissimo e mi ha dato un nuovo sguardo sui rapporti che ho banalmente se ci si vuole davvero bene in amicizia e si litiga le cose si sistemano in maniera semplice e parlando di cose semplici mi ha fatto credere e credo fermamente tuttora che i sentimenti e l'attrazione romantica e l'amore siano davvero una cosa semplice sì esistono i compromessi esistono le divergenze le litigate però se si è davanti alla persona giusta è semplice e non faticoso non impossibile tante cose mi ha insegnato ragazzi veramente tante episodio preferito in assoluto non saprei veramente non saprei perché mi piacciono quasi tutti come episodio spreferito ne ho davvero pochi che non mi piacciono e non mi piacciono abbastanza per dire tipo che sono i miei spreferiti però uno di quelli che mi mette più di buon umore è lei odia giacca e cravatta in italiano si chiama ed è quello dove lui conquista ed è quello dove Barney vuole andare a letto con la bartender con la barista nuova e nasconde tutti i suoi abiti perché a lei non piace giacca e cravatta e poi c'è tutto quel momento musical quella puntata mi fa molto ridere ma ce ne sono troppe raga vi giuro cioè dovrei farvi una lista intera qual è il rapporto di amicizia che preferisci e perché allora a me l'amicizia tra Ted e Marshall piace veramente veramente tanto anche se mi piace molto il rapporto che hanno Lily e Ted anche perché secondo me è un bel esempio di amicizia maschio femmina in cui in qualche modo mi ritrovo mi piace però anche l'amicizia che c'è tra Marshall e Robin e mi piace tantissimo la teoria quella della sirenetta che Barley dice che tutte le ragazze che ti sembrano dei trichechi prima o poi si trasformeranno in una sirenetta Marshall sostiene che per lui Robin sarà sempre un tricheco dopo una serata in cui tipo escono non mi ricordo lui inizia a vederla come una sirenetta tipo fa no 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 e poi alla fine vabbè lei sbratta sui suoi piedi e la rivede come un tricheco lui è felicissimo mi piace molto quel rapporto e sinceramente aggiungerei anche questa cosa l'amicizia che c'è tra i tre ragazzi quindi tra Marshall, Ted e Barney è interessante secondo me perché Barney è costantemente tipo in una sorta di competizione per essere il miglior amico di Ted quando in realtà secondo me dovrebbe solo capire che anche lui è il miglior amico di Ted solamente che lo è in modo diverso rispetto a Marshall cioè alla fine per forza di cose inevitabilmente perché sono delle persone diverse ma soprattutto Marshall e Ted si sono conosciuti al college quindi praticamente da ragazzi mentre con Barney si sono conosciuti dopo che erano già degli adulti più affermati quindi hanno anche dei modi di conoscersi diversi però secondo me tutti e tre sono amici in modo molto bello vabbè comunque abbiamo tutti bisogno di un'intervention non siamo troppo fissati con I won't met your mother girl you're fucking right fidanzata preferi Ted beh sua moglie Tracy tutte le altre sinceramente non mi sono piaciute perché l'hanno reso una persona fastidiosa tutte nessuna esclusa però se devo scegliere una preferita ma solo perché è quella che mi fa più ridere non perché mi piacesse con lui è l'ultima quella prima che lui incontri sua moglie come si chiama Janet Janine una roba del genere dai quella pazza poliziotta pazza che gli brucia a casa quella lì mi fa scassare a quale personaggio assomigli di più caratterialmente boh raga vi giuro che non lo so perché è dura secondo me dovrebbe dirmelo qualcuno che mi conosce perché io ho chiaramente una percezione distorta di me secondo me tipo io un po' a Robin assomiglio per alcune cose poche però per alcune cose mi rivedo in lei però per altre cose mi rivedo tantissimo tipo in Lily mi rivedo anche in Barney ogni tanto in Ted non mi rivedo non lo so non so quale personaggio mi assumi di più dovrei chiedere a una delle mie migliori amiche e poi vi farò sapere lo chiederò a Franca cosa pensi del bro code penso che sia geniale penso che sia veramente geniale io ho a casa il playbook me l'hanno appena regalato per il mio ventunesimo compleanno e il bro code l'ho regalato a Franca sempre in quarantena quando abbiamo finito di vedere How I Met Your Mother glielo ho spedito a casa ad aprile tipo e vabbè a parte quello penso che sia boh mega intelligente cioè secondo me tutta la costruzione del personaggio di Barney è una figata perché è veramente cioè sì è lo stereotipo del classico latin lover che non si vuole innamorare mai e cazzi e mazzi però alla fine comunque anche lui ha le sue fragilità ha le sue parti umane ha le sue emozioni e soprattutto trovo che la sua personalità sia troppo divertente cioè per me è un personaggio fatto troppo bene anche tutta questa roba del bro code del playbook dai lo rendono mega intrigante cioè che persona figa sei è comunque una mente creativa niente lo amo quindi per me il bro code è geniale e soprattutto quanto mi fa scassare raga quanto il broth quando lui fa fare il giuramento a Ted che si vestono tutti da frati e mettono le mani sul bro code cioè dai bellissimo geniale perché nessuno parla di Ranjit ma non è vero che nessuno parla di Ranjit io amo Ranjit vabbè nessuno parla di Ranjit perché è oggettivamente un personaggio molto secondario cioè però è figo che lui faccia sempre parte della storia una cosa che mi piace molto della fine poi dalla fine parleremo tra poco è che si vede che fine hanno fatto tantissimi dei personaggi tipo che Ranjit apre la sua agenzia di limousine quella cosa mi fa scassare qual è il tuo personaggio preferito e perché è proprio Barney Stinson bene parliamo ufficialmente di questa cosa allora io sono follemente innamorata di Barney Stinson non ci posso fare niente come ho detto prima incarna sì il classico Latin lover ma io sono perdutamente innamorata della sua umanità cioè mi fa tenerezza questo guscio insomma che lui si è creato perché parliamoci chiaro ragazzi forse non tutti l'hanno pensato ma lui è una persona che comunque è stata abbandonata dal papà di conseguenza ha la paura dell'abbandono lui ha paura di essere abbandonato e ovviamente in tutti i suoi rapporti con le ragazze fino a quando poi non approfondisce con Robin è chiaro che lui preferisca avere il coltello dalla parte del manico è chiaro che lui non si voglia affezionare a nessuno perché nel momento in cui ti affezioni e poi questa cosa la devi lasciare andare o non va bene e quindi ti lasci o una persona ti delude eccetera eccetera devi far fronte all'abbandono e lui non vuole far fronte a questa cosa qua ma lo si vede anche con i suoi amici perché lui insiste così tanto che Ted sia il suo migliore amico perché lui vuole essere speciale per qualcuno e ha sempre paura di non esserlo abbastanza e sicuramente questa è una roba secondo me ricollegabile alla sua situazione familiare quindi vabbè cioè a me lui proprio mi fa troppa tenerezza io gli voglio troppo bene e è il mio personaggio preferito perché secondo me il personaggio di Barney ha un'evoluzione in nove stagioni meravigliosa cioè bellissima anche alla fine che è discutibile per quanto vogliamo però a me la cosa che piace di più di Barney è la crescita del personaggio che noi vediamo in nove stagioni se ci fate caso tra l'altro nelle prime due stagioni Barney non è così importante cioè è quello che fa tipo le battute simpatiche ma si parla poco di lui la storia è molto più concentrata su Ted e Robin e Marshall e Lily Barney insomma è come se fosse lì un po' per contorno l'amico che un po' completa il gruppo quello sempre single poi piano piano iniziano a sviscerarlo come personaggio e secondo me quando lo fanno è bellissimo io gli voglio proprio bene perché riconosco la facciata che lui vuole mostrare e piano piano riesco a conoscere le sue fragilità e le sue debolezze che lo rendono l'umano che è e io gli voglio bene e poi come dicevo prima appunto secondo me è una personalità della madonna ce lo trovo mega divertente mega intelligente mi fa scassare tutta la storia del lavoro poi quando gli chiedono che lavoro fai lui risponde please e poi alla fine si spiega tu cioè sei un genio sei un genio molti odiano Lily per San Francisco e per le ragazze di Ted a te piace? vabbè chiaramente si riferisce al fatto che lei molla Marshall per andare a San Francisco e al fatto che lei ha fatto mollare Ted con tante delle sue fidanzate a me onestamente il personaggio di Lily non dispiace trovo che questo sia un suo grandissimo difetto vabbè la cosa di San Francisco non la giustifico ma non la biasimo neanche perché lo spiega molto bene la serie lei ha dei dubbi perché si sente di essere rimasta ferma nella sua vita di non aver concluso niente quindi vuole mettersi alla prova certo fa un po' una minchiata però come dice lei molto bene in quell'episodio io so che è un errore ma devo fare questo errore per capire che è un errore quindi in realtà appunto come dicevo non la giustifico ma non la biasimo neanche per la cosa delle fidanzate di Ted diciamo che Lily ha un po' questa mania di controllo ha un po' questa tendenza a superare i confini che vabbè non è molto positiva però lo sa capito cioè lo sa che è un suo limite come anche lo sa Ted che è un suo difetto tutti loro sono amici perché in qualche modo accettano i difetti l'uno dell'altro infatti Ted si incazza come una iena e dice ma ti pare come ti permetti non è assolutamente il tuo compito e cerca di far capire perché è una roba sbagliata ovviamente poi capito fanno pace perché comunque sono amici in un modo molto profondo e sono amici nonostante i loro difetti capito però sì ecco diciamo che lei ha un po' sta mania di controllo di ficcare il naso nelle vite degli altri però nel complesso a me non dispiace come personaggio cioè comunque la trovo una persona abbastanza sincera se Barney usasse una delle pagine del playbook su di te ci cascheresti? raga vi giuro che mi sono fatta questa domanda più volte nella mia vita e allora il fatto è che in Italia nessuno ci prova con te come in America cioè non è che tu vai al bar e arriva uno al bancone e ci prova con te cioè non è una cosa che è nella nostra cultura ecco quindi a parte il fatto che non mi capiterebbe mai ovviamente se uno ci provasse con me in questo modo mega squallido non ci starei però posso dire una cosa posso dire se una persona venisse da me e ci provasse usando una delle tecniche del playbook rendendo palese che si sta riferendo ad how I met your mother punto numero uno riderei un botto punto numero due gli darei un'occasione solamente perché ha quotato how I met your mother gli darei un'occasione nel senso che tipo ci parlerei dieci minuti non è che lo limonerei ovviamente però avrebbe comunque attirato la mia attenzione perché è una roba che mi fa ridere e mi diverte e vabbè insomma è la mia serie preferita quindi tipo ci presterei attenzione qualcuno mi chiede avresti strutturato diversamente l'ultima stagione allora a me magari è un unpopular opinion ma a me l'ultima stagione piace mi piace un botto vi dirò innanzitutto trovo molto interessante e figa l'idea di raccontare un weekend lungo letteralmente tre giorni in tipo 22 puntate se non sbaglio cioè è figa l'idea di dilatare tutto un weekend in una stagione che poi questa stagione sia il matrimonio della mia coppia preferita nonché Robin e Barney è un altro discorso però sinceramente la struttura non mi dispiace per niente e poi comunque trovo che sia piena di episodi divertenti quindi no in mia opinione non l'avrei strutturata differentemente è sicuramente una stagione che si differenzia bene dalle altre ma parliamo di finale che è una cosa molto molto discussa e di cui tra l'altro mi sono resa conto di non aver mai mai rilasciato una mia opinione sul finale quindi eccoci qua a me il finale drumroll please non mi dispiace lo so è molto discusso ci sono persone che lo detestano che dicono che merda ha rovinato tutta la serie tv bla 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 e persone che dicono boh sì ok non ho ancora visto nessuno che dica che bello il finale però insomma sono molte più le persone deluse dal finale che non io non è che sono delusa perché posso dire che sinceramente un po' me l'aspettavo che sarebbe finita così però cioè comunque allo stesso tempo non mi fa impazzire ma non è che mi dispiace infatti per me il finale è quando Robin e Barney si sposano ed escono dalla chiesa tenendosi per la mano e la voce narrante di Teddy dice and it was legendary per me how I met her mother finisce lì però insomma le ultime due puntate bene molto discusse perché dico che non mi dispiacciono tanto perché alla fine sono plausibili che cos'è che voglio dire sicuramente mi dispiace il fatto che lui non parli tanto di sua moglie ma allo stesso tempo se ci pensiamo lui sta raccontando questa storia ai figli e i figli la madre la conoscono siamo noi che non la conosciamo loro non hanno bisogno di sapere i dettagli del caraccio capito non so come dire hanno vissuto molti anni con la loro mamma quindi la conoscono piuttosto bene e lui racconta brevemente questa roba a parte che è palese secondo me dal primo momento che non è la storia di come conosce sta cazzo di madre ma è la storia di come si innamora di Robin e non la molla mai cioè per me è proprio palese ma dal primo momento mi fa soffrire tantissimo la morte della moglie perché secondo me lei era veramente la donna perfetta per Ted e se notate è l'unica l'unica delle sue fidanzate che tira fuori il meglio di lui Ted quando è stato fidanzato nel corso di tutta la serie cioè madonna diventava sempre una persona insopportabile cioè o comunque sempre troppo sottone sempre troppo trasportato non ha mai avuto una relazione equilibrata dove lui e l'altra persona erano alla pari in qualche modo mentre con lei sì perché hanno tantissime cose in comune sono compatibili infatti a me dispiace troppo perché cioè si vede proprio che lui si è innamorato di lei capito non so come dire e lei ovviamente di lui però è anche scontato che lui stesse palesemente raccontando la storia di Robin perché dico che a me Ted e Robin non piacciono perché lui ha sempre assecondato lei in che senso loro si conoscono e non si mettono insieme perché lei vuole fare carriera non gliene frega un cazzo di avere dei figli non gliene frega un cazzo di sposarsi lui l'unica cosa che vuole al mondo praticamente è sposarsi avere dei bambini ed è naturale che cioè non andranno mai da nessuna parte perché vogliono due cose estremamente diverse quando stanno insieme nella seconda stagione cioè si sono entrambi abbassate dei compromessi lei ha fatto finta di volersi sposare di volere dei figli lui ha fatto finta di non volersi sposare di non volere dei figli per stare con lei il fatto è che secondo me è sbagliata come idea you be you e se l'altra persona è ok con te per come sei allora va bene il problema della loro relazione è che vogliono due cose profondamente diverse e nessuno dei due può rinunciare al loro profondo desiderio di realizzazione nella vita che per uno è mettere su famiglia e per l'altra è realizzarsi nel lavoro capito quindi cioè è bello che loro ci abbiano provato però era palese che era destinata a finire ho letto tante interpretazioni del finale molti dicono che quello che era sbagliato tra Robin e Ted non era il fatto che non si amassero abbastanza perché erano entrambi molto innamorati l'uno dell'altro il fatto è che era sbagliato il tempismo solamente quando entrambi hanno realizzato il loro obiettivo sono riusciti a mettersi insieme boh sono d'accordo ma sono anche non d'accordo non lo so per me lui è troppo succube di Robin e non non avranno mai un rapporto equilibrato quindi non sono fan della coppia hanno un rapporto molto più equilibrato Barney e Robin e tra l'altro quando divorziano il mio piccolo cuore veramente è esploso perché loro mi piacevano tantissimo e ci credevo tantissimo in loro vabbè a parte questo appurato il fatto che non sono d'accordo con questa apparizione sotto casa di Robin con il corno blu il resto del finale è realistico è realistico cioè è normale loro diventano tutti adulti cazzo Marshall e Lily hanno tre figli cioè ci sta che non escano più al McLaren ci sta che non vivano più nell'appartamento e che cambino casa perché alla fine poi ognuno prende una direzione diversa nel momento in cui diventano adulti al 100% è molto bello però che rimangano tutti uniti per quelli che loro chiamano i big moments quindi quando succede qualcosa di importante loro si rivedono sempre perché comunque nonostante la vita li abbia fatti crescere insomma li abbia separati per mille motivi diversi restano comunque tutti quanti parte delle vite gli uni degli altri questa per me è una roba molto figa è normale che ci si vede di meno col tempo perché si hanno impegni cioè si hanno molti più impegni si lavora si ha la famiglia e mille altre robe e c'è ovviamente molto meno tempo per piazzare a bere le birre al pub capito è scontato e affrontano questo tema con grandissima malinconia che fa piangere ma fa anche sorridere perché ti fa capire che comunque sono delle persone molto molto unite apro una piccola parentesi Robin un po' una stronza che piglia e se ne va però capisco anche il suo punto di vista perché dice you know where is the gang for me cioè sai che cos'è la gang per me è il mio ex marito il ragazzo che avrei dovuto sposare e due persone che hanno fatto sua famiglia quindi la capisco capisco anche il suo bisogno di allontanarsi da quella realtà però boh comunque non lo so cioè poteva farsi vedere un po' di più secondo me ecco il finale di Barney invece è interessante perché va bene lui si sposa con Robin divorziano il mio cuore in frantumi ripeto e poi lui torna un po' a quella vita da single che effettivamente è molto triste come roba cioè voglio dire a un certo punto deve finire anche questa cosa qua però insomma lui secondo me ha un po' questa sindrome da Peter Pan e il fatto che gli nasca una figlia è il passo che lui fa nel diventare adulto Marshall e Lily hanno messo sua famiglia hanno avuto figli Marshall ha fatto grandissimi progressi nella sua carriera eccetera eccetera e questo è stato il loro diventare adulti Barney e Robin secondo me non sono diventati adulti nel momento in cui si sono sposati ma sono diventati adulti dopo Robin lo è diventata andando a rincorrere il suo sogno di far carriera Teddy invece si è trasferito nella casa che ha ristrutturato e ha avuto due figli per Barney questo momento arriva dopo cioè il momento in cui lui ha una figlia che secondo me è un momento molto molto toccante quindi in realtà a me non dispiace neanche il finale di Barney proprio perché la serie vuole essere realista in nuove stagioni lo è in qualche modo anche il finale perché il finale è oggettivamente triste e poi vabbè succedono mille cose muore la moglie che è molto triste Barney e Robin divorziano che è molto triste la gang non è più la gang dicono addio all'appartamento che è molto triste però alla fine fa parte anche questo della vita cioè succede capito quindi alla fine è comprensibile non è la mia cosa preferita della serie ovviamente il finale però è ok cioè è disilluso questo voglio dire l'ultima scena patetica in cui lui torna lì con il corno blu e le suona e lei esce con cinque cani boh ok va bene romanzato a mille mega cliché però sti cazzi sinceramente non è il finale a definire la bellezza di questa serie a mio avviso va bene ragazzi ho parlato 600 ore sappiate che avrei altre 7000 cose da dire ma non posso di certo asciugarvi l'anima quindi per il momento questo è quanto su How I Met Your Mother bene ragazzi io spero che questo episodio vi sia piaciuto io mi sono divertita tantissimo a girarlo anche perché parlerei di questa serie ore e ore spero di essere stata abbastanza completa di aver toccato dei punti interessanti ovviamente mi aspetto tantissimi feedback da parte vostra su cosa ne pensate magari voi sul finale piuttosto che sul vostro personaggio preferito piuttosto che non lo so se avete delle opinioni diverse rispetto a quello che ho detto io mi farebbe molto piacere parlarne you can slide into my dms whenever you want vabbè vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo episodio di Basicly Lea o ci sentiamo insomma bacetti ciao ciao ciao